non stiamo lì, siamo lo Smile Village Siamo con... Domenico! Raffaele Com'è la serata? È molto bella, poi Sato Shidomi è grande, è molto bravo No, è spettacolare, è un grande Un bel bacio alla telecamera Sato Shidomi Voi sono venuti, questa sera, per la partita di Christmas Il sottotitoli del dj stile, per il duff mix del mondo Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è semplicemente un onore essere all'interno dello Smile con Satoshi Domi in console. Quanto è importante questo DJ a livello mondiale? Vabbè diciamo che Satoshi fa parte del poker taxi dell'house music all'interno dello scenario mondiale. Lui è il primo sicuramente giapponese al mondo come DJ e come producer. E inoltre ha una serie di innumerevoli successi anche da live. Tant'è vero che quello che stai eseguendo ora è un vero e proprio live. Esclusiva Smile. Ragazze, ma lo sapete che stasera qui allo Smile è tutto Tech House? Certo! Mi state divertendo? Tantissimo! Come sta andando? Bene, bellissima! E' sempre Satoshi Domi che sta facendo ballare e saltare con la sua Tech House tutto lo Smile. Come sta andando qui stasera lo Smile? E' una figata stasera, bellissima! Ma io ho trovato tre indottamboli. Veronica. Giuseppe. Massimo. E' una grande serata. Tu che ne pensi? Ah no, è veramente una bella serata, anche se mi piace il tuo vestito. Ma che grazie! Siamo dietro al bancone dello Smile Village, uno dei quattro banconi, o meglio, forse tre, quattro, cinque, insomma, quelli che siano qui allo Smile si beve. Quanto si beve qui allo Smile stasera? Si beve molto e si beve bene. Come si beve qui allo Smile? Bene! Ragazzi, un bacio a tutti e divertiti qui allo Smile. Divertimento non manca! Stasera che c'è Satoshi Tomi, si sono inventati un cocktail, che si chiama questo cocktail? Satoshi Tomi. Fabrizio, com'è questo Satoshi Tomi cocktail? Ebbè, è semplice, è a base di sake e Red Bull. Come si beve qui allo Smile? Benissimo! I broker dicono che il Satoshi Tomi cocktail è buonissimo. Io e te dobbiamo brindare? E certo! Nottambuli, noi brindiamo a... Satoshi Tomi. Cosa vi state guardando, sentendo e perdendo? Siamo qui in compagnia di... Naiki. Marina. Nottambuli? Mi è sembrato di sentire un nome un po'... come dire... Strano. Un nome giapponese come Satoshi! Pensate un po' che cosa ho trovato. Un nome che va in pandan con il DJ che è lì in console. Bravissimo, una serata bellissima. Beh, ma il tuo nome da che cosa deriva? Eh, il mio nome vuol dire confusione. È la prima volta che sono venuta qui allo Smile, è troppo bello. Sicuramente ci ritorneremo. E poi voglio dire, con il regalo Babbo Smile ha regalato Satoshi Tomi, che non è da poco. Infatti, un DJ davvero troppo bravo. Ho trovato forse due nottambule doc, però ce lo devo dimostrare. Quanto siete nottambule voi due? Abbastanza. Ti chiami? Erika. Ti chiami? Maya. Notta Poli, stasera sto trovando tutte ragazze con dei nomi pazzeschi, bellissimi. Mettili sul tavolo e facci vedere come balli. E ci date un bel bacio alla telecamera? Visitate www.youtube.com.nottambuli Grazie.